La mia antenna di polo, chiamiamo la antenna, insomma ha un po' il fatto di un giorno all'Europa, alla Russia, a Spagna, a Francia, a Germania, insomma, tutto il giorno di risulta, a fare diversi collegamenti. La mia antenna è stata usata, ho fatto una tecnica, se ne cadono al minimo due ore che prendo pomeriggio mi ci vogliono, che mi braggio a me, del pomeriggio a scegliere, però l'ultimo prano, tra mesi 10, la mia antenna. Bene, sono stato così a me, bellissimo, moreno, che prese anche di spesa, e l'ha fatto, sì, era stato un bel po' di tempo, quando ci arriviamo, però, scantamellando un po' in tempo, che ho visto da pandemia di San Falcone, visto che in fatto anche il suo suono, un sistema di soluzione, di cadarino, eh? per fortuna attimo volevo montare la il sud la che è sotto la il sud che mi posso scendere per portarla a noi sentivo un rumore un aspetto di sorpresa dentro un rumore e ancora in grado in grado in grado in grado che non sono di materiale fuso materiale